Giovedì 9 febbraio per il giorno del ricordo si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno La storia, la memoria, i luoghi per una riflessione sull'esodo estriano, fiumano, Dalmata. Organizzato dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Istituto Piemontese per la storia della resistenza, Istoreto, la provincia di Torino e la partecipazione dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il seminario è stata occasione di confronto e di studio per analizzare la ricostruzione storica dell'esodo Giuliano Dalmata, pagina dolente e spesso dimenticata della recente storia italiana. Anche per questa pagina tragica del Paese, spesso dimenticata, il Consiglio regionale Comitato Resistenza da diversi anni organizza momenti di riflessione, di approfondimento per non dimenticare, per conoscere la storia del nostro Paese, per trasmettere alle giovani generazioni. Istriani, fiumani, dalmati, poibe, esodo, campi profughi. E questo è il dibattito che oggi, il convegno in cui oggi stiamo parlando, discutendo, e le varie sfaccettature, le varie sfumature di una storia cosciessa di italiani in Italia in tempo di pace. È il più grande dramma italiano della Seconda Guerra Mondiale.